eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri e vai ragazzuoli e ragazzuole belle e belli come dico sempre vi mando un abbraccio a tutti buon lunedì 20 novembre 2023 ore 19 che ore sono eccolo qua 19 e 03 le notizie sono sempre belle fresche non sono sparito non sono sparito ma lo sapete anche voi che con la pausa per le nazionali gli argomenti calano o meglio ci sono ma siamo tutti concentrati sulla nazionale e stasera tra poco ci sarà ucraina italia in germania valevole come partita in modo definitivo per l'entrata agli europei 2024 che gli astri ce la mandino buona se vedrai il video ovviamente questo video questo mio video dopo la partita io spero che sia stato un momento bellissimo di felicità non voglio immaginare il contrario boh basta andiamo avanti così perché è meglio non dire nulla un po anche per scaramanzia ragazzi questo è un video molto breve che rimane entro i cinque minuti di tempo perché le notizie ve le voglio dare perché ormai si riprende dopo questa partita comunque mi sembra che domani martedì ci saranno le ultime partite nazionali poi dopo basta si riprende si va avanti non ci si ferma più nemmeno a natale nemmeno l'ultimo dell'anno tutto il resto allora il concetto è questo oggi è stato esonerato maurizio ganz dalla guida come tecnico come allenatore della nostra prima squadra femminile al suo posto arriverà praticamente davide corti per la conduzione tecnica della squadra visti i risultati non molto felici di maurizio ganz questo è un passo dovuto poi un'altra notizia che comunque ci rincuora un pochettino di diede champ l'allenatore del nazionale francese lascia a riposo il nostro magico mike magnan perché così ha deciso insomma la francia è già posto da un certo punto di vista per cui insomma l'altro giorno cos'è che ha fatto la francia dai ragazzi quanti gol ha fatto parliamoci chiaro poi un'altra notizia sul ritorno di bremovic come dirigente al mina e questo sarà un punto fondamentale per noi il ritorno di slatani bremovic oggi si viene a sapere che molto probabilmente la data utile sarà quella della partita contro il borussia dormut del 28 novembre nel momento in cui jerry cardinale che sarà presente per la partita contro il borussia dormut darà l'annuncio del ritorno di bremovic come dirigente al mio è uno spettacolo ragazzi ebbene arriviamo al protagonista di oggi il nostro attaccante della nostra primavera in allenata dal grandissimo ignazio abate camarda questo ragazzo di 16 anni che sta bruciando praticamente le tappe camarda da un certo punto di vista ragazzi può ricordare un attimino quello che è stata la carriera del nostro ex portiere quello lì quello la donna rumma e praticamente il discorso è che non dico che si ripeterà quello che è successo al nostro ex portiere ma potrebbe arrivare il suo momento perché oggi io sono completamente d'accordo sulla dichiarazione che ha fatto il nostro ex grande giovanni galli che ha praticamente detto questo e ve lo voglio leggere perché è importante quello che dice oggi galli comunque lo sappiamo tutti pioli può attingere dalla primavera causa infortuni causa disastri dal punto di vista di guai muscolare dei nostri giocatori un disastro la preparazione atletica ormai lo sappiamo tutti i medici e tutto il resto praticamente qui adesso voglio vedere un attimino giorgio furlani cosa ha capito di questo schifo che sta succedendo nel milan ormai siamo diventati quasi una barzelletta da un punto di vista degli infortuni solo per solo di ricca d'italia siamo noi più potenti siamo noi però un attimino bisogna anche darsi un po da fare a tirare fuori soldoni per giocatori che ne valgono anche se sono giovani però adesso vi leggo quello che ha dichiarato giovanni galli partendo dal discorso jovic come giocatore giovanni galli proprio su jovic dice questo aveva dimostrato di avere tutto per essere un grande giocatore vero quando arrivato in serie a ho pensato ok può essere un gran colpo ma deve recuperare la fame in questi ultimi anni gli sta mancando non saprei nemmeno dire su jovic se è una questione mentale o fisica ma sembra un altro rispetto al talento ammirato in germania di lui non abbiamo visto nulla se il milan lo recupera può contare su un elemento importante non succederà ma se la situazione non cambia tanto vale far giocare un ragazzo come camarda potrebbe essere un'occasione per buttarlo dentro con meno responsabilità non può esserci un vuoto così dietro a girò allora queste sono le parole di giovanni galli io le sposo completamente ecco perché il video dedicato a lui anzi sta durando il video di qualche minuto in più di cinque minuti che vi ho detto ragazzi lo ripeto pioli ha ricevuto il mandato per utilizzare ragazzi la primavera adesso per l'ennesima volta vedremo questo allenatore cose capaci di fare io vi mando un abbraccio speriamo bene per la nostra nazionale ripeto se il video lo vedrai dopo il risultato nazionale commenterò nel giorno dopo cioè domani sera il stasera se tu lo vedi adesso il video se lo vedi giorno dopo quello che è successo anche con la nazionale insomma io vi mando un abbraccio forza mina sempre comunque ovunque ciao